Dopo auto e camion senza pilota stanno per arrivare le navi cargo a conduzione autonoma anche se per ora solo sotto costa e non in mare aperto. L'ha annunciato il gruppo chimico norvegese Yara che si dotterà di una nave a batteria in grado di navigare da sola. L'imbarcazione dovrebbe essere pronta a lasciare il porto a partire dal 2020. C'è già un nome Yara Birkeland. La tecnologia è stata sviluppata insieme alla Kongsberg, una multinazionale che realizza soluzioni e mezzi per l'industria petrolifera, la pesca, i trasporti e anche in ambito militare.